Ciuurma, io ricordo, lasciate tutti quanti un mega mi piace, perché io per fare questi video rischio tantissimo Quindi a meno che non superi i 20.000 mi piace, non ci sarà un prossimo episodio, già ve lo dico Hola Ciuurma, benvenuti in questo nuovissimo video Reaction di Minecraft Contro la vita Reale Whee Ciuurma, nello scorso video ce l'abbiamo fatta No, non intendo il fatto che abbiamo superato Sì, i like li abbiamo anche superati Ma ce l'abbiamo fatta Ciuurma Abbiamo preso il bollino giallo E quindi Ciuurma, oggi ho paura di quello che andremo a vedere Ma come sembra ragazzi, mi da lasciare un mega mi piace E superiamo di nuovo i 20.000 mi piace se volete il continuo di questa serie Dal bollino giallo come la mia maglietta E di poi farla la maglietta verde adesso Grazie, perfetto E quindi Ciuurma, iscrivetevi al canale attivando la campanellina Soluto, se l'avete fatto adesso, scriviamolo qua sotto nei commenti Scarmintero Aumentiamo il volume E 3 di 1, Ciuurma Let's go Questa musichetta Minecraft contro la vita reale Fuoco Ok No, per favore No, no, no Vedete la sua faccia? Sono io dentro quello, questo momento E comunque è stato censurato Perché ha fatto un gesto molto brutto ragazzi Non peraltro Stavo pensando a quello che ha fatto raga, incredibile Un tappeto, beh dai Raga Mi mostri un tappeto Ok, 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 ok Quindi passa sopra il tappeto Va bene, real life Non si è fatto nulla E mele continuava a cantare Un minecart Ok E scende tranquillamente Perfetto E torni il minecart Porca cazzozzo Ok, ok Redstone 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 Ok Ok E anche oggi Pegliamo il pollino giallo Capito Oh Una palla Raga Una palla di neve Non può essere brutta Ok 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 Va bene Ok Che carine Poveretta È una palla di neve Non si è fatta nulla E in realtà non fa male la neve Ok Oh Quante belle pozioni Dai Ok Real life Ma che cavolo Ok Caduta Raga ho paura Ok Ok Bravo Non si è fatto nulla Non si è fatto nulla Raga Era uno stuntman Ok Scavare Vabbè sta scavando Bello sciallo Si fa un pillar Ok Real life Ma che Ma perché Ma come sta scavando Ma no Ce ne deve mettere La sabbia Ma no Dai Vabbè Ok Va bene Muro Ragazzi Noi ci ricordiamo già Il muro dello scorso episodio Bene Se non ve lo ricordate Cliccate qua in alto a destra E dopo ve lo andate a vedere Ok 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 Va bene Ciurma Io ricordo Lascia tutti i momenti Un mega mi piace Un mega mi piace Perché io per fare questi video Rischio tantissimo Quindi a meno che non superi 20.000 mi piace Non ci sarà un prossimo episodio Già ve lo dico Questa musichetta Raga questa musichetta Ok Quanto la vediamo Ok 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 va bene Vai 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 Iron bars Ok Le bar di ferro Vai Let's go Let's go Dai Easy Ok ci salta tranquillamente Perfetto Non si è fatta niente Non si è fatta niente Non si è fatta niente Si è fatta niente No Ok Ok Minecraft Beh Vediamo tutto così Naturalmente Tutto da Mezzo ubriachi Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Vabbè ragazzi Si muove anche lui Come personaggino Perfetto Non si muove più però Un cavallo Hai Su Minecraft Un cavallo è così Ah L'ha buttato giù L'ha buttato giù Beh Capita Capita ragazzi Capita anche normalmente Con i cavalli veri Quindi Minecraft Contro il video reale Acqua Dai Dai Ok Real life Tipo Waterbucket challenge Dai Easy Easy Andiamo col prossimo Vai Ma Se ne è buttato All'altro Da solo Ma no Mamma mia Rega Ma come si fa Ma come si fa Minecraft Minecraft E vediamo Ragazzi Ok Contro il video reale Ok Ghiaccio Ma Beh Presumo Tipo Prossima Mese Qualcuno Che usciva Sul Ghiaccio Raga Sicuramente Sì 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 Il video reale Eccolo qua Bedei Non si è fatto male Per fortuna Massi Tutto freddo Poveretto Barca Ok Ci siamo Molto semi Molto tram Perché Questo qui Cade E' andato Cade Ma come si fa Parkour Let's go Ok GG Ok Parkour Nella vita Reale Poveretto Poveretto Che non Non l'ha preso No Vabbè Minecraft Le scale Ok Ciurma Ciurma Secondo voi Cosa accadrà Adesso Nella vita Reale Ci sono Queste Quattro Opzioni Vi do Tempo 5 secondi Per Indominare Anche voi Avete scelto Quella Andiamo A vedere Vediamo Ragazzi Se abbiamo Indominato Bene Non avevamo Incluso La sedia Per fortuna Che alla fine Hanno riso Ha riso Anche quello Che è caduto Quindi non si è fatto male Perfetto Signore di youtube Niente bollino giallo Per oggi Un pollo Vai E' simpatico Il pollettino Classico Ok Real life Allora Sono due le cose O è una risata Cattivissima O è una risata Di depressione Di disperazione Oppure Un pollo Che si è ingolfato E non riesce a partire bene Minecraft Minecraft Di nuovo Ok E' la terza volta E oggi vediamo un minecart Su minecraft Ok Ok Real life Ragazzi Questo non so Se può essere visto Però Vedro Ed eccoci qua No rega Ho paura No rega No 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 Ok Sono un party Ha quello che pure ride Probabilmente Casa su E ride Cosa Beh dai Non si è fatto nulla Dai PvP Oh yes Minecraft Beh E' dando un pugno Ok Oh no Ho paura Gli ha fatto una carezza Di realità Non capisco Però vabbè Non so cosa c'entra Con il pugno Ma ok Oh Di nuovo Ragazzi Ghiaccio Ho paura Questo scivola Questo scivola Ma ha detto Ghiit Gatto Su minecraft Oh che carino Che carino L'oselot Eh che impazzito Chi succede Ragazzi È codice morse Codice morse Quello Ciurma Chi di voi conosce Il codice morse Deve decifrare Questo messaggio Scriverlo qua sotto Nei commenti Fatemelo sapere ragazzi Perché sono Stracurioso E se vi blocate Su minecraft Beh vediamo Tutto in questo modo Tutto così Lo sappiamo Ma nella vita reale Si è seduto Si è seduto col tavolino Sopra Un cavallo Ok Beh i dai da mangiare Perfetto Real life Oh ciao Ma gli ha stornutito Che schifo Schifo Che sta nudito Iii Cagnolone Su minecraft Ma Ma che Ma che Ma Iii Ma perché Ma Ma Magliano Let's go Pulito pulito Che carino Lo chiameremo Bacon Con Lui E Bacon Ragazzi Sembra uno zombie Di Call of Duty Però Odio Un altro gattino Come sembra L'ossero Ida della carta Ok E' bellissimo Com'è Uccello E c'è un C'è un pibistrello Ok Va bene Ragazzi I pibistri sono molto carini Di la verità Oh Anche io l'ho Un cacafo così Uova Peccato Era divertente Beh lancia le uova Pulito pulito Ah Ce l'ho dato in testa Va bene Quindi già immagino Cosa potrebbe accadere Fa un omelette Ah Oh Ma 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 sei stupido Perché Su minecraft E' molto divertente Se ci mettete i pistoni Sotto Quelli sono Stradivertenti Oh yes E vabbè E vabbè E' andata così Per cura Oh no Raga Qua qualcuno ci deve Qualche facciata Qualcuno ci deve Lascia la faccia Oh 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 Ah Ragazzi Proprio quando si dice Ha preso la metro Proprio